3 benvenuti ragazzi sul canale di store player cosa facciamo oggi in questo video ritorniamo sull'avventura dei cavalieri dello zodiaco il santuario per playstation 2 su playstation 2 oggi sono i miei occhi che un attimo solo i miei occhi che non vanno o la videocamera è sporca ritorniamo sui cavalli dello zodiaco il santuario per continuare l'avventura delle 12 case continua partita non perdiamo tempo andiamo subito a vedere cosa dove eravamo rimasti pirgo è fortissimo ragazzi attenzione l'uomo più vicino agli dei chi sarà chi sarà ad affrontarlo e a cercare di sconfiggerlo felix 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 attenzione felsanti non me li ricordo non mi ricordo moriremo moriremo adesso inizieremo a sudare sicuro prepariamoci a morire prepariamoci a morire prepariamoci sta bruciando il cosmo non ci credo nemmeno io non ci credo nemmeno io non ci credo nemmeno io a parte leone che è stato veramente tosto mi ricordo da battere gli altri ci sono mantenuti calmi molto misericordioso pirgo molto misericordioso pirgo attenzione arriva felix 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 allo sei pronto a pagare sei pronto a pagare dai che fenix è fortissimo dai dai più o meno me li ricordo i pulsanti però sicuramente farò volta di minos è partito ragazzi ma noi siamo più forti con fenix mi sentirò fortissimo ora giusto ah si ci eravamo già incontrati non mi ricordo non mi ricordo qual è che cazzo fai di minos quindi questo 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 no no oh eh 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 no oh oh c'è ca mi sto squagliando t'ho preso t'ho preso t'ho preso il nome di carico il nome di carico sono cazzi tuoi sono cavoli tuoi t'ho preso di nuovo mamma mia felix mamma mia vai 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 avvicinati avvicinati mamma mia ragazzo no come fantasma diabolico mamma mia me l'aveva quasi t'ho preso t'ho preso vai fenix ti prego ti prego deve durare poco questo incontro no 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 fenix ti prego donna mia fenix dove tiri? dove tiri? la maison de fenix non è vera non dice così smidollato smidollato virgo ti ho fatto il mazzo grande fenix grande c'è è rimasto dalla bocca da qui no non mi dite che che si continua a combattere capito però t'ho fatto male non mi interessa che tu sei minosse o buddha cosa? non è giusto t'ho battuto stai fermo stai caldo t'ho battuto niente oh cacchio gli occhi di virgo sono aperti ho aperto gli occhi ma sto perdendo la sensibilità aia non sento più nulla ma hai tolto tutto pure le braccia mi hai tolto fermatelo 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 qualcuno che lo ferma si andromeda questa è la catena di andromeda sciacca sciacca si chiama virgo è sciacca allora prima uccidi andromeda e poi sei ancora morto sei ancora morto frano si rialza Fenix con tu cosmo di Fenix è rinato cosmo di Fenix è rinato si sta espandendo in modo spaventoso settimo senso di Fenix questo cosa fa questa 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 mossa se lo prendi da dietro attenzione se lo porta se lo porta via se lo porta via se lo porta via non si sa se lo porta via se lo porta via e lo porta via e lo porta via e lo porta via Virgo gli aveva tolto tutti i sensi ma si era dimenticato che ci poteva essere il settimo senso che Fenix ha acquisito ora andiamo a fare un viaggio nello nello spazio Ikki Ikki povero Ikki peccato peccato bene se esiste la rincarnazione va bene ci sta Ikki Ikki cosa fai cosa fai cosa fai però abbiamo sorpassato la casa di Virgo il risultato è eccolo qua 39 39 secondi ho attacco B difesa C valore C io pensavo di aver fatto migli perché l'ho praticamente squagliato a Virgo vabbè comunque aggiunta una nuova collezione e tutto il resto bene bene ragazzi bene ragazzi nel prossimo video come vedete andremo nella casa della bilancia la spada della bilancia ma ricordatevi di lasciare like e commento prima di tutto per sostenere questa questa serie dei cavalieri dello zodiaco il santuario su PlayStation 2 e ricordatevi di iscrivervi se non l'avete ancora fatto per non perdervi più nessun video la prossima volta che entrate su YouTube mi raccomando ci vediamo al prossimo video qui sui cavalieri dello zodiaco let's go a 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 Grazie a tutti.